e quindi un manga da legge in tranquillità successo ecco a voi Holorin il più grande cesto opening italiano 104.514 gemme non è proprio questo tanto palese che se sto farò un video con il fumetto di Fortnite di cento raga ho comprato questo vi piace vabbè detto ciò ragazzi io direi di iniziare allora con l'unboxing se magari mi ricordo Invincible Omnibus volume 3 volume 3 ragazzi di Invincible l'Omnibus di Invincible edizione lo ricordo perché magari qualcuno non lo sa edizione unica al mondo perché la Saldapress bazzite ha fatto un'edizione inedita che non hanno neanche in America perché in America hanno la Compendium che è brossurata mentre questa è cartonata serie il contenuto del volume è una delle migliori serie degli anni 2000 punto a mio gusto è il miglior prodotto che abbiamo iscritto Kirkman con buona pace di The Walking Dead sono solo nove volumi è già concluso non ci sono seguiti c'è qualche spin off ma non siete obbligati a seguirlo a acquistarlo anche che vi potete tranquillamente leggere soltanto inizio poi se volete recuperare gli spin off c'è modo di farlo e che dire ragazzi poi per una volta per una volta che abbiamo un'edizione unica che neanche gli americani c'hanno che ve ne volete privare assolutamente no prima di andare a Fear Agent c'è nuovo volume di Luke di Peter David e tratto dovremmo essere abbastanza vicini alla fine forse Fear Agent ragazzi una serie fantascientifica di Rick Remender autore di Seven to Eternity Dead World Class un autore davvero incredibile low un autore davvero incredibile e e la 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 Saldapress a differenza ecco ora non esiste l'editore perfetto ok ogni editore ha i suoi difetti però però quando case editrici come la Panini la Star Comics la J-Pop fanno i cofanetti cofanetti omaggio i cofanetti omaggio e se volete posso prendere il cofanetto di number 5 che ricordo so 36 euro i cofanetti i cofanetti omaggio sono dei fogli di carta velina che appena fai così si rovinano la Star Comics perché questo è un cofanetto omaggio ragazzi cofanetto omaggio quando vi fa il cofanetto omaggio ve lo fa di cartoncino spesso Dio santo cioè guardate non si rompe non si piega Dio Cristo New York Cannibals di Book e Sharine non so se si pronunciano così se vi ricordate io vi ho fatto vedere Little Tulip qualche tempo fa stesso formato sempre della Oblomov che questo è il seguito cioè sono volumi collegati quindi dovete per leggere questo dovete necessariamente leggere Little Tulip sempre della Oblomov stesso formato stesso prezzo stesso team creativo che unisce uno stile prettamente Franco Berga diciamo nel tratto a anche alcune soluzioni molto occidentali ecco diciamo così per chi non sapesse l'incipit di Little Tulip il protagonista figlio di una famiglia di indesiderati durante l'epoca della Russia comunista viene mandato insieme al padre e alla madre nei Gulag nel Gulag padre e madre fanno ciao ciao e lui rimane solo praticamente dieci anni di ragazzina a dover cercare di sopravvivere in un Gulag come fa a sopravvivere in un Gulag diventando un tatuatore la storia in Little Tulip si sviluppa su due linee temporali una che è quella del passato dove seguiamo la sua vita nel Gulag questa l'altra linea narrativa che invece nel presente perché lui il ragazzino cresciuto perché riesce a sopravvivere al Gulag a New York con il suo studio di tatuaggi non so come si chiama e praticamente New York Cannibals segue la vita di una ragazzina che è lei ragazzina vabbè ho sbagliato perché c'era anche una protagonista femminile ma non esagiamo comunque che appunto era stato salvato dal protagonista di Little Tulip crescerà diventando comunque davvero davvero figo sia questo cioè Little Tulip ha anche questo tornano gli Omnibus tornano gli Omnibus ragazzi e tornano gli Omnibus con Dio santo con con il terzo Omnibus di Batman di Grant Morrison ragazzi la run di Batman di Grant Morrison è una delle migliori run di sempre su Batman so tre Omnibus non mi ricordo se finisce col terzo sì dovrebbe finire col terzo perché c'è Inca anche sì finisce con questo quindi sono solo solo per modo di dire sono solo tre Omnibus perché praticamente il primo Omnibus costava 69 euro il secondo Omnibus 75 e questo terzo Omnibus di nuovo 69 Enigma di Peter Milligan e Duncan Fegredo allora Peter Milligan è uno degli autori Vertigo più forti di sempre oltre a lavorare per la Vertigo ha lavorato anche alla Marvel con i Statics e Duncan Fegredo è il disegnatore che Mignola ha voluto per chiudere Hellboy gli ultimi numeri di Hellboy che ha uno stile tanto anche lui fantastico e questa qua ragazzi è appunto un'opera Vertigo opera auto-inclusiva cioè non fa parte di una serie Enigma che vi consiglio vi consiglio a tutti di legge perché Peter Milligan ha uno stile che va molto sullo psicologico ma anche sullo psichedelico è uno stile narrativo chiaramente tant'è che lo stesso Milligan ha scritto una storia su Legione per esempio il figlio di Charles Xavier il mutante con il disturbo di personalità multipla c'era l'omnibus di Batman ciao Wade c'era l'omnibus di Batman che avete visto momenti pochi momenti fa e c'è un altro omnibus questo è l'omnibus del Thor di Walter Simonson ne ho parlato diverse volte in live questo omnibus tra l'altro esisteva in Italia però in due omnibus divisi che hanno deciso appunto di accorpare in un unico omnibus ragazzi la run di Walter Simonson su Thor è stata la prima vera run di Thor anche più di quella di Lee e Kirby perché è il primo che veramente dà uno scheletro una struttura un world building al personaggio e alla sua chiaramente testata comunque dietro gli omnibus vi fanno vedere tutte le copertine dei volumi che sono contenuti all'interno del suddetto omnibus ho visto all'Etna Comics toglie le cuffie bombe razza volume al massimo e via sicuramente andiamo avanti primo fumettino cinese il numero 4 di Planet of the Fools di Rocky Endo con il numero 15 con il numero già al 15 siamo con il numero ma come è possibile con il numero 15 di Tokyo Revengers Tokyo Revengers anche qui ne ho parlato tante volte un manga divertente ma nulla più non è un capolavoro non ridefinisce il genere l'unico downside in questo caso che dura sta durando un pochino troppo perché per ora siamo al 15 ma in Giappone sono al 27 mi pare quindi un manga da legge in tranquillità successo andiamo invece a uno dei fumetti che ho più apprezzato dell'anno scorso e che è ancora in corso ovvero Frieren oltre la fine del viaggio numero 5 che è un un grande JRPG però con un incipit diverso perché il viaggio del gruppo del party di eroi finisce quando inizia il manga poi il manga segue la vita di Frieren che è un elfo immortale che è lei che si ritrova ad essere da sola e si trova a fare diciamo i conti anche con questa solitudine andiamo ora al fumetto giapponese che più ho apprezzato tra le nuove uscite chiaramente dell'anno scorso ovvero quella meraviglia che è Colon Generic Romance Colon che inizia con come se fosse una normale romance e andava anche bene in quel modo perché comunque era fatta benissimo però butta dentro anche qui un po' di fantascienza perché si inizia a parlare di identità si inizia a parlare di clonazione da qui poi nasce il discorso sull'identità e poi il tutto accompagnato da aspettate cioè è che meraviglia è che meraviglia poi Kajiwa Kaji Kujirai è una delle signorine 2D più belle di sempre cioè veramente non le si può dire nulla però come sapete ogni volta che c'è un volume di Kenganashura si toglie la sovracoperta perché c'è questo sotto la sovracoperta è importante ragazzi importante dietro no dietro è tranquillo ma lo fa Kenganashura lo fa c'è anche di peggio in altri volumi comunque Kenganashura ragazzi fumetto di fumetto di mazzate ma mazzate di quelle violentissime e va bene così guarda c'è un culo maschile tra l'altro è un ripeto fumetto di mazzate divertentissimo è un grandissimo torneo quindi è un battle shonen che effettivamente è soltanto battle non c'è altro perché è tutto un grande torneo il Kengan appunto e si ammazzano di botte se vi interessano se vi divertono le mazzate secondo me non è ambientata a Napoli una romcom così per spezzare un po' le letture Kaguya Sama Love is War numero 13 questo anche questo soffre dello stesso problema di Tokyo Revenge si è chiesto 2000 volumi mi pare arrivati anche qua al 25 24 davvero troppo per me le romcom dovrebbero durare una decina di volumi e basta e poi il penultimo il penultimo volume di City Hunter XYZ questa è la nuova anche delle cosce ci sono delle gambe ci sono nella costina perché la costina forma tutta un'immagine City Hunter XYZ ragazzi è la nuova edizione di City Hunter perché quella vecchia non si trovava comunque hanno fatto questa nuova edizione 3 in 1 ha lo stesso problema che hanno tutte le edizioni 3 in 1 City Hunter poi è anche un'opera secondo me che non è per tutti perché è un'opera che vive molto del periodo in cui è stata scritta perché la comicità è una comicità tipica anni 80 la storia è una storia molto verticale cioè le storie sono verticali perché appunto il 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 come cazzo si dice il protagonista Rio Seba è un detective privato quindi ogni storia segue una un'indagine però in compenso ci sono le signorine disegnate da ojo che so meravigliose carcaptor sakura numero 4 la collector's edition davvero bellina questa collector's edition ragazzi poi carcaptor sakura è uno shoujo uno dei miei shoujo preferiti mashall numero 5 uno dei fumetti più ignoranti non leggevo un fumetto ignorante come mashall dai tempi di torico 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 quello che cazzo è è praticamente è un ambientato in una scuola di magia quindi alla harry potter dove tutti sono maghi tranne il protagonista che non sa usare la magia però è fortissimo cioè è veramente è tipo saitama fisicamente è fortissimo shai numero 4 shai numero 4 rotta ad avere dei bei disegni molto bellini molto bellini i disegni di shai poi mi piace che c'ha questi bordoni e soprattutto questi neri molto molto marcati nelle linee è un fumetto che inizialmente sembra una storia alla myro academy perché parla di supereroi anche se il pool di protagonisti è molto 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 più ristretto però in realtà poi è uno slice of life che parla di tutti altri argomenti diciamo che quello è soltanto flavor la parte dei superpoteri il resto è soltanto flavor per il resto rimane uno slice of life molto molto interessante da seguire bluelock bluelock numero 10 pensate quanto tempo è passato da bluelock dicevo bluelock ragazzi è uno spokon è uno spokon ragazzi esagerato però divertente divertente perché ha un pace fantastico non ci sono momenti morti disegnato benissimo secondo me è disegnato davvero davvero bene e niente ragazzi anche qui è un manga da leggere per divertirsi per spezzare le letture perché magari avete voglia di un manga sportivo vi siete letti già un po' di roba se non avete mai letto questo quindi al terzo ultimo volume di dimoslayer dimoslayer numero 19 sta finendo dimoslayer il manga ragazzi non è a livello dell'anime l'anime è molto molto più figo da leggere da leggere da guardare perché la storia allora partiamo dal presupposto che la storia ragazzi è una storia come tante ok quindi già di base questo non incentiva l'acquisto però l'anime è animato alla perfezione quindi anche gli scontri che potrebbero essere nel fumetto scontri abbastanza banali scontri che magari non hanno tanto pathos nell'anime invece lo lo hanno e quindi l'anime vale vale tantissimo anche perché nel manga ovviamente considerate già questo è l'ultimo uno degli ultimi volumi quindi il tratto è molto migliorato però nei primi volumi ma anche tuttora molte volte le tavole sono parecchio caotiche parecchio difficili da no visionare non tormentarmi Nagatoro anche qui una Roncom slice of life anche qui divertente nulla di più ottimo per spezzare le letture leggero senza pretese poi se voi ricercate Anna Karenina o Karenina quello è un problema vostro non del fumetto il numero 2 di Kenshin Samurai Vagabondo o se siete WIB Ruro Uni Kenshin ragazzi Kenshin Samurai Vagabondo è probabilmente uno dei migliori fumetti di samurai di sempre insieme all'immortale di Samura e e quindi da prendere a tutti i costi l'unico downside di questa edizione non è tanto l'edizione in sé che è bellina molto bellina anche molto comoda da leggere guardate come si apre facilmente l'unico downside ragazzi è che sono 22 volumi con cadenza bimensile quindi vuol dire che per 4 anni voi vi dovete accollare di spendere 9 euro al mese io ve lo dico poi fate VOBIS 20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition volume 4 la Ultimate Edition di Dragon Ball cartonato e ragazzi questa io ancora non l'avevo chiaramente aperta non l'avevo avuta tra le mani con sovracoperta e tutto la sottocoperta la cosa è in bianco e nero molto bellina vediamo come si legge perché io volevo vedere culo di bulba importante e pagina a colori chiaramente come potete vedere molto bella la carta comunque nelle pagine a colori ma in generale la carta è perfetta finalmente hanno utilizzato una carta perfetta ragazzi hanno utilizzato una carta perfetta perché i i neri risaltano tantissimo l'inchiostrazione risalta tantissimo anche i colori sono meravigliosi la rilegatura mi sembra buona si apre a 180 gradi tranquillamente perché io avevo paura sapete di cosa che fosse simile a Sweet Papricot Paprica perché il formato è praticamente identico è cartonato con una carta molto pesante e infatti certe volte è un po' difficile aprirlo Sweet Paprica e Slash of Paprica mentre qua non ci sono resistenze ecco questa è davvero davvero fatta bene l'effettivo ultimo numero di cioè non l'effettivo ultimo numero comunque l'ultimo numero libero di Mickey Mouse Mystery Magazine questo è il numero 6 che vuol dire l'ultimo numero libero Mickey Mouse Mystery Magazine sono sette volumi però il settimo volume si può acquistare soltanto col cofanetto che però era stato annunciato l'anno scorso infatti io già ce l'ho prenotato Mickey Mouse Mystery Magazine come potete intuire dal titolo è una raccolta sono storie di topolino molto più incentrate sul noir ecco sul mystery per l'appunto e mentre il settimo volume che è appunto contenuto nel cofanetto dovrebbe essere anche una raccolta mi pare di bozzetti e roba similare ciao sono Lucia sono una sirena può sembrare strano ma è una storia vera la leggenda narra che è nel 1981 Beppe Grillo va bene ok per questo non compro le tutine meno male ma mi pare che ci sia stato un cambio a riguardo però comunque bellissimo Mickey Mouse e Mystery Magazine andiamo dispillati Fantastici 4 numero 42 quella meraviglia ma quanto cazzo è figa sta copertina ragazzi quanto cazzo è forte Hotley questo è Hulk di Gates e Hotley numero 4 e questa è la copertina di Hotley cioè guardatelo questo Hulk ragazzi lo dovete leggere solo per i disegni fregatevene della storia leggetelo solo per i disegni guardate guarda che meraviglia fuori di testa fuori di testa e poi flash numero 24 Robin e Batman la rinascita del dinamico duo dei signori Lemire e Nguyen che è lo stesso team creativo di Descender della Bao pubblicato dalla Bao e chiaramente ragazzi sto sto volume merita soltanto cioè non soltanto ma merita anche solo per gli acquarelli di Dustin Nguyen che sono meravigliosi meravigliosi ragazzi tutto in acquarelli tutto in acquarelli guarda che meraviglia Lanterna Verde stagione 2 tanto sto mese due volumi di Morrison perché c'è il suo Batman e il suo Lanterna Verde le storie fighe anche Lanterna le ha avute ragazzi abbiamo finito l'ultimo unboxing almeno per un po' di mesi l'ultimo unboxing del canale allora facciamo il recapino facciamo il recapino prima con i cinesi così poi li metto là dietro allora non tormentarmi Nagatoro numero 8 One Punch Man numero aspetta per fare questo recapino forse conviene che la chat ok One Punch Man numero 24 Demon Slayer numero 19 Bluelock numero 9 e numero 10 Shy numero 4 Mushle numero 5 Car Captor Sakura la Collector's Edition numero 4 City Hunter XYZ numero 11 tanto penultimo numero di City Hunter Kaguya Sama numero 13 Kienganasho numero 20 Koulon numero 5 Free Arena numero 5 Tokyo Revengers perché mi stavo uscendo tipo alla metà slag Tokyo Revengers numero 15 e Planet of the Fools numero 4 insomma mi è uscito alla metà slag Tokyo Revengers poi Dragon Ball Ultimate Edition numero 1 20 sono d'accordo comunque Ivano 20th Century Boys la Ultimate Luxe Edition numero 4 e Kenshin Samurai Vagabondo sempre Perfetis numero 2 poi New York Cannibals di impossibile pronunciare quei due nomi Kofanetto di Free Agent con i numeri 1 e 2 su 4 che ancora devono uscire Hulk di Peter David il penso il penultimo volume vedendo quello che è contenuto Invincible Omnibus numero 3 poi Spillati Fantastici 4 42 Flash 24 e Hulk 4 Topolino Mystery Magazine numero 6 Ah Omnibus di Tori di Walter Simonson numero senza numero però Enigma come mai imbustato Hulk no non lo so me l'hanno dato con la bustina Enigma di Peter Milligan e Duncan Fegredo Batman di Morrison 3 terzo e ultimo Omnibus Lanterna Verde sempre di Morrison stagione 2 e sempre ultimo volume e Batman Robin e Batman di Lemire e Dustin Guyen però devi mettere un sottofondo musicale avete visto o lo rinventi 3 fina a un sottofondo musicale